Buongiorno signore ispettore, che sta a fare la spesa alla signore ispettore? Paolo, ma che me stai a pia in giro? Ma come è foste la moglie nervosa? Sarà che con qua la gamba l'ha mannata in bianco? Ma che sta a dire ieri sera? Ma che dite, ve ne siete fatte sempre? Hai capito? Una, quasi quasi ce la facevo. Ma per pesce però chi è? Eccolo là, va. E tu, fatte l'affari tua. E' fresco sto merluzzo. Altro che, è stato pescato stamattina. Ma che sta a fare? No, io ho chiesto se aveva visto mio zio che è morto affogato due mesi fa e mi ha detto che non lo sa, perché è un anno che manca dal mare. Ma che stai a dire? Stamattina ero io, ma non mozzi, i momenti mi stai a candito. No, ma se ne va. Ma che gli dà, Marocchi? Andiamo dal macellaro. Oh, io con te non ce vengo più a fa la spesa. Ma guarda questo, mo te metti pure a sentire la musica. Ma non dovevi manda a cosa la Ciccela? Non lo sai che sto appassionato di musica, eh? Ma sì, e da quando? Da sempre. Io li sovito pure a suonare il conservatorio di Santa Cecilia. Ma davvero? E com'è andata? Ho suonato, suonato, mi hanno aperto lì su. E com'è andata? Grazie a tutti.